Scena aperta presenta la compagnia d'auna del libro parlato condotta da Tonio Sereno in Il lupo e l'agnello una favola di Jean Lafontaine adattamento di Antonio Scopece voce narrante Giuseppina Sfortunio, il lupo Luigi Schiavone, l'agnello Angela Ferrara, voce fuoricampo Piero Cammuso, musiche di Giovanni Lodigiani, regia di Tonio Sereno. Un giorno un agnello sulla riva di un ruscello beveva tranquillo la chiara acqua. Arriva un lupo che non mangiava da tre giorni e, digrignando i denti e pieno di rabbia, disse Agnello, chi ti ha detto di intorbidare la mia acqua? Ma, signor lupo, guardi bene. L'acqua scorre e io sto dopo di voi. Non posso intorbidare l'acqua. Io dico che tu intorbidi la mia acqua e l'anno scorso hai detto male di me. Non è possibile, signor lupo. L'anno scorso non ero ancora nato. Se non sei stato tu, sarà stato tuo fratello. No, signore. Io non ho fratello. Queste sono chiacchiere. È sempre qualcuno di voi che mi offende. Un giorno o altro mi vendicherò di voi, dei cani e dei pastori. Così dicendo afferrò il povero agnello, lo trascinò nella foresta e se lo divorò. A questo mondo il più forte ha sempre ragione. Così dicendo afferrò il povero agnello, lo trascinò nella foresta e se lo divorò.